In questo video ti racconterò della chiesa di Tiatira nel libro dell'Apocalisse. Ciao, sono Cristian Morano e ti do il benvenuto nel mio canale. Se sei nuovo ti invito a iscriverti e ad attivare la campana di notifica. Queste cose, dice il figlio di Dio, che ha gli occhi come fiamma di fuoco, i piedi simili a bronzo incandescente. Io conosco le tue opere, il tuo amore e la tua fede, il tuo servizio e la tua costanza. So che le tue ultime opere sono più numerose delle prime. Ma ho questo contro di te, che tu tolleri Jezebel, quella donna che si dice profetessa e insegna e induce i miei servi a commettere fornicazione e a mangiare carni sacrificate agli idoli. Le ho dato tempo perché si ravvedesse, ma lei non vuole ravvedersi della sua fornicazione. Ecco, io la getto sopra un letto di dolore e mettono una grande tribolazione coloro che commettono adulterio con lei, se non si ravvedono delle opere che lei compie. Metterò anche a morte i suoi figli e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che scruta le rene e i cuori e darò ciascuno di voi secondo le sue opere. Ma gli altri di voi in Tiatira che non professate tale dottrina e non avete conosciuto le profondità di Satana, io dico non vi impongo altro peso, soltanto quello che avete tenetelo fermamente finché io venga. A chi vince persevera nelle mie opere, sino alla fine darò potere sulle nazioni ed egli le reggerà con una verga di ferro e le frantumerà come vasi d'argilla. Come anch'io ho ricevuto potere dal padre mio e gli darò la stella del mattino, chi ha orecchie ascolti ciò che lo spirito dice alle chiese. Tiatira era una città di commercio e principalmente era famosa per la produzione della tinta viola e anche per il commercio di rame e di bronzo. Nella città di Tiatira c'erano anche molte corporazioni nel quale raggruppavano differenti aziende ma ogni corporazione aveva le proprie divinità da adorare. Quindi spesso un cristiano si ritrovava nel compromesso o perdeva lavoro per la propria fede oppure si comprometteva e peccava di idolatria. Gesù inizialmente nella lettera si presenta come il figlio di Dio essendo che uno degli idoli di quella città era l'imperatore Cesare nel quale si credeva che fosse l'incarnazione del figlio di Dio e Gesù in questa lettera si descrive come se avesse gli occhi come di fiamma e di fuoco e piedi simili a bronzo e questa forse è una similitudine connessa al commercio del bronzo ma anche perché era lui il vero figlio di Dio e il signore e non l'imperatore. Gesù aveva una cosa contro la chiesa di Tiatira cioè la tolleranza di Jezebel nel quale portava l'idolatria all'immoralità e anche a mangiare carni sacrificate agli idoli. Purtroppo non ci sono molte prove storiche e conoscenze riguardo a questa profetessa che viene descritta in questa lettera. Può anche darsi che è una similitudine connessa alla Jezebel nel libro delle cronache ma personalmente credo che sia stata una profetessa che esistita a quel tempo e portava molti fratelli in Cristo Gesù a peccare di immoralità e di idolatria. Gesù conclude la lettera affermando la sua autorità sulle nazioni e promettendo di rilasciarla a chi perserverà fino alla fine. Nel prossimo video ti racconterò della chiesa di Sardi. Se ti è piaciuto questo video condividilo, metti un mi piace, iscriviti al mio canale attivando la campana di notifica. God bless you!